Secondo l'amministrazione comunale, la riunione di ieri nella sede dell'Agenzia del Demanio ha sancito un altro fondamentale passo in avanti verso la realizzazione del secondo Palazzo di Giustizia nelle aree dell'ospedale militare. Dopo anni di dibattiti e scontri anche sulla localizzazione del nuovo Palazzo di Giustizia, il Comune si dichiara ormai vicino alla possibilità di eliminare i 2 milioni di euro corrisposti ogni anno a privati per i canoni di locazione alla riunione di ieri preseduta dal direttore generale del Demanio Roberto Reggi. Erano presenti il sindaco Renato Corinti e l'assessore ai lavori pubblici Sergio De Cola. Il ministero era rappresentato dal direttore generale del ministro della giustizia Antonio Mungo, dal generale Antonino Caporotundo responsabile della task force del ministero della difesa per le dismissioni e dal dirigente del Demanio Massimo Gambardella. Nel corso dell'incontro si è definito il percorso finalizzato alla realizzazione del secondo Palazzo di Giustizia nelle aree dell'ospedale militare e al trasferimento dei servizi della struttura nei locali attualmente in uso alla Marina di Via Bonino. Sono stati anche valutati gli aspetti relativi alla progettazione delle opere e anche i successivi appalti.